Irene Manente, Marichita, vive e fa arte intorno a Venezia, città dell'unicità per eccellenza, e dalla magia di questi luoghi, circondati dalle acque, trae ispirazione per la sua ricerca creativa nei profondi meandri dell'inconscio, in cui il misterioso mondo sotterraneo dei mari fa in qualche modo da specchio ad una poetica dell'interiorità. Quello femminile, in particolare, è il soggetto simbolico ricorrente, per rappresentare l'io più profondo, e non a caso le opere di Marichita, questa è il nome d'arte di Irene Manente, in cui compaiono le sue seducenti donne simbolo, sono caratterizzate da ambientazioni notturne, quasi surreali, in cui la fisicità, determinata dai toni accesi e corposi di colore, si accompagna ad un'atmosfera onirica, che ci trasforma in una dimensione altra. Da alcuni anni, svolge attività di ricerca storica in ambito artistico sul tema delle donne, rivolta a riportare alla luce figure femminili di straordinario impatto artistico cadute nell'oblio. Collabora in qualità di autrice al progetto Verso l'enciclopedia delle donne.